Solo il corpo fisico come sensore. Cenacolo voci dall'infinito, i fratelli dello spazio, attraverso Wanda, a cura di VB. I fratelli dello spazio. Nel nome della grande luce che emana calore, armonia e pace, noi messaggeri veniamo a parlarvi di quanto non sapete e non volete sapere, perché in voi esiste una superficialità che è atavica nella storia dell'umanità. La vostra umanità è sorda ai richiami che arrivano e si propagano per tutta la creazione, perché vuole usare solo il corpo fisico come sensore e come trasmettitore di vibrazioni. Tutto ciò non porta a dei traguardi ben precisi. Voi utilizzate troppo i sensi umani, tralasciando la componente più importante dell'essere, la sua parte animica. E quella parte che appartiene all'umanità per la sua capacità di riflettere l'armonia, che come suono, è una musica dolcissima, che si espande da universo ad universo, da galassia a galassia, da pianeta a pianeta. E' un insieme dolcissimo di melodie, composte da colori e vibrazioni. L'umano ignora questa realtà e trascura anche ciò che appare davanti ai suoi occhi, senza fremere di entusiasmo per quello che vede. Vede e basta, non sente la risonanza con tutto quanto è stato creato nella perfezione da una mente unificatrice, la mente cosmica. Nessuna mente, di nessuna evoluzione, anche la più avanzata, può comprendere o concepire una legge suprema così ineguagliabile, né costruire tanta perfezione. La mente cosmica è perfezione, armonia e luce palpitante e vibrante, e nessuno mai, anche facendo parte delle alte sfere, può avvicinarsi alla potenza che emana e che annullerebbe ogni altra vibrazione e pensiero. Tutti si devono quindi tenere a distanza dalla forza cosmica, una forza che non possiamo descrivere, è sola e unica, ed è alimentata da quell'amore che rappresenta la sua potenza.